Siamo a Nereto qui in Viale Europa proprio di fronte all'ingresso della palazzina B del condominio Europa dove al quarto piano si è consumato questo ennesimo femminicidio. Come potete vedere dalle immagini di Alberto Capo sono venuti in tanti questa mattina ma anche ieri sera per la verità a rendere omaggio a salutare insomma Miaela Roa con un fiore, con una fiaccola, con un palloncino rosso semplicemente per dimostrare vicinanza a questa vita spezzata. Con me c'è appunto il sindaco di Nereto che Daniele Laurenzi come è stato registrato questo ennesimo femminicidio qui dalla comunità di Nereto che comunque ricordiamo è un comune di poco più di 5.000 abitanti quindi diciamo ancora una cittadina a misura Duomo dove le persone si conoscono e insomma vivono davvero insieme. Innanzitutto a nome dell'amministrazione comunale ma di tutta la comunità esprimo una ferma e forte condanna a questo gesto ignobile un omicidio che ci scuote, scuote come diceva lei l'intera comunità. Il mio pensiero va innanzitutto alla bambina che rimane senza una madre e ahimè anche senza un padre. Dichiarerete il lutto cittadino? Noi dichiareremo il lutto cittadino in queste ore ancora non sappiamo se il funerale si svolgerà qui a Nereto oppure se la salma verrà ricondotta in Romania. Mi dicono che i genitori della ragazza purtroppo deceduta sono in viaggio verso l'Italia. Il lutto cittadino è un atto dovuto, è un messaggio chiaro e forte e netto di condanna contro qualsiasi tipo di violenza, in questo caso purtroppo familiare. Noi proprio l'anno scorso abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione con l'installazione di una panchina rossa in pieno centro in piazza Cavour coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado. Dobbiamo cercare di sensibilizzare partendo dalle istituzioni scolastiche e veicolare questo messaggio di condanna contro qualsiasi tipo di violenza. Il pensiero è corso subito alla bambina perché nell'immediatezza del fatto appunto si era detto che questa donna, questa giovane mamma di 32 anni era stata uccisa, mamma di una bimba di 6 anni e si cercava il compagno. Quindi molti si sono immediatamente preoccupati di dove fosse la bimba. Da ieri sera e anche questa mattina attraverso i nostri uffici sociali, l'assistente sociale, che io ringrazio, la dottoressa Cordoni, siamo in contatto con il Tribunale dei Minori. Questa mattina è già partita una PEC per rappresentare quanto è accaduto e restiamo a disposizione del Tribunale dei Minori per tutte le determinazioni che verranno fatte.